musica va bene va bene allora no e addio allora menzogna numero 29 del mio ultimo libro versetti storpiati che ho finito oggi oggi ho finito quindi celebriamo celebriamo con spumante e fuochi d'artificio i versetti storpiati finito e questa menzogna numero 29 che è un sacerdote può perdonare i tuoi peccati prima di tutto voglio dire una cosa che ho anche scritto nel libro questo libro non è scritto contrario a qualcosa perché il sottotitolo è 40 menzogne del religionismo smascherate cioè dei versetti sui quali il religiosismo ha creato delle menzogne che io smascherò alla luce della scrittura e quindi il motivo per cui ho scritto questo libro non è per denunciare qualcosa ma per spingere qualcosa non è contro religionismi eccetera eccetera ma a favore della grazia a favore del perdono a favore di Gesù come voi sapete la mia vita è basata su Gesù solo Gesù nient'altro che Gesù 100% Gesù senza diluenti o addittivi o coloranti aggiunti quindi non mi interessa quelli che sono sbagliati mi interessa Gesù Cristo non mi interessa dire alle persone tutto quello che fanno di sbagliato mi interessa di dirgli tutto quello che Gesù ha fatto di giusto e quindi però nel frattempo chiaramente devo pur parlare qualcosa quindi menzogna numero 29 un sacerdote può perdonare i tuoi peccati oh questa menzogna è la principale se non la sola motivazione della Chiesa Cattolica Romana che noi conosciamo molto bene per giustificare il sacramento della confessione il versetto storpiato in questo caso è Giovanni 20 23 che dice a chi perdonerete i peccati saranno perdonati a chi li riterrete saranno ritenuti ok prima di tutto vorrei dire che non si può e non si deve basare una dottrina così fondamentale come quella del perdono divino su un unico versetto sì perché esiste un versetto solo nella Bibbia che sembri giustificare seppur erroneamente un tale dogma la Chiesa la Chiesa Cristiana la Chiesa Romana cattolica romana basa tutto il concetto del sacramento della confessione sacramento ragazzi non mi ricordo quanti sono ma sette quindi è importante un sacramento è importante la comunione l'estremozione tutte le altre cose qui è una cosa importante la confessione è basata su un versetto uno un versetto di tutta la Bibbia di tutto qui dentro hanno tolto hanno preso un versetto non puoi non si deve basare una dottrina così fondamentale su un versetto la prova del nove della veridicità di qualsiasi punto di vista per quanto riguarda opinioni bibliche e religiose è l'accordo di due o tre altri testimoni Deuteronomio 1915 un solo testimone non basterà ad incolpare alcuno per qualsiasi crimine o peccato abbia commesso il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni quindi quando tu basi un dogma o una dottrina su una scrittura sarà meglio che ne hai due o tre o quattro o cinque o sei che le confermano non puoi partire con un versetto che dice ho 99 versetti che dicono una cosa però ce n'è uno che dice l'opposto allora io creo la dottrina su quello e la confessione il sacramento della confessione è basato appunto su una cosa del genere Matteo 18 16 se non ti ascolta Gesù dice se non ti ascolta prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni 2 Corinti 13 1 ogni parola sarà confermata per la bocca di due o tre testimoni proprio come ho fatto nel caso di questa mia ultima dichiarazione dichiarazione ho citato tre versetti a confermare del concetto quindi io cerco sempre di chiamare in giudizio almeno due versetti quindi una dottrina importante come quella della confessione dei peccati dovrebbe avere almeno due o tre versetti a ratificare la sua validità e invece ce ne non so avete sentito giù il bene uno so si potrebbe anche menzionare a proposito Giacomo 5 16 che dice confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri ma questo parla di falli non di peccati due parole completamente diverse nel greco originale e poi dice confessate gli uni agli altri vuol dire tra di voi per cercare aiuto e preghiera non di confessare i tuoi peccati a un sacerdote o a tantomeno a Dio questo è un versetto che dice quando tu hai un problema quando tu stai peccando quando tu stai fallendo quando tu parapipto che non è amartia amartia è peccato parapipto è un errore una sbandata quindi dice confessa le vostre sbandate gli uni agli altri quindi tu hai un problema con la pornografia chiami un fratello cristiano di cui ti può fidare e gli dice prega per me perché ho questo problema questo è quello che vuol dire Giacomo 5 16 c'è un versetto solo che è quello che abbiamo letto in Giovanni dove c'è se li ritenete saranno ritenuti se li perdono saranno perdonati quindi il concetto non è quello di creare di basare una tale dottrina su un versetto solo eppure approssimativamente un miliardo e mezzo di credenti poi ragazzi mica la chiesetta evangelica di 25 persone che poi due se ne vanno perché no un miliardo e mezzo di credenti romani cattolici credono che i loro peccati possono essere perdonati da un sacerdote un uomo un peccatore come loro seduto in una scatola di legno da dietro una tendina di stoffa pazzia tristezza tremenda quando io vedo quelli là andati in giro vestiti da madri che li chiamano padri con la borsetta in fiamme i candelabri mamma mia ragazzi ma e poi poi ti sorprende ti sorprende il fatto che il mondo si fa delle risate dietro la chiesa ma ragazzi non so io vabbè lasciamo perdere comunque cosa ci facciamo allora se fosse effettivamente vero che un sacerdote può perdonare i miei peccati cosa ci facciamo con versetti tipo romani 4 dal 4 all'8 e questa è dalla CEI dalla a chi lavora il salario non viene calcolato come un dono ma come dedito a chi invece non lavora ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli viene accreditata come giustizia così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato Efesini 1.7 in Lui in Cristo abbiamo la redenzione abbiamo voce del verbo abbianare voce del verbo avere ce l'ho adesso abbiamo la redenzione mediante il suo sangue non ce l'avrò ce l'abbiamo ce l'ho adesso la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia Colossesi 2.13.14 voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne voi dico voi Dio vi ha vivificati con Lui perdonandoci tutti i peccati voi ragazzi è difficile bisogna conoscere il greco per capire ancora quel genere perdonandoci ci ha vivificati Dio ci ha vivificati in Cristo perdonandoci tutti i peccati avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce noi vogliamo gli essi comandamenti nelle aule nelle scuole nelle aule di tribunale eccetera e Dio le ha inchiodate alla croce 1 Giovanni 2 12 signori vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome voi ragazzi ma qui bisogna studiare perché bisogna cercare di capire le nuance dei significati nascosti di una frase del tipo i vostri peccati sono perdonati non so cosa ci vuole a capire una cosa del genere i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome e tanti 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 altri vedete la follia la follia di prendere un versetto fuori contesto e crearci sopra una dottrina deleteria come quella della confessione perché dico deleteria perché questa menzogna toglie la potenza del perdono dei peccati al sangue di Cristo l'unico mezzo per poterlo ottenere ebrei 9.22 senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati lo toglie dal sangue di Cristo e lo mette nelle mani di un uomo vestito di nero che non è anche riuscito ancora a scaricarsi di dozzo i suoi peccati ma pazzia ragazzi totale pazzia eppure qualsiasi cattolico romano che si rispetti corre immediatamente a Giovanni 20.23 nel momento in cui si mette in dubbio il sacramento della confessione fidati lo so che mi arriveranno di quelle pietrate ragazzi già sento già sento i fischi dal Sudafrica che stanno partendo dall'Italia i missili che stanno arrivando ragazzi perché ma come diventamente dici le tesserie sei condore me l'hanno detto di tutti di più va bene non importa andiamo avanti perché intanto il mio compito non è quello di convincere nessuno il mio compito è quello di presentare la verità come io la vedo e come io la credo poi dipende da te o credi a me o credi a addominio vestito di nero nella scatola di legno dietro la tendina che ti dice confesso i tuoi peccati e poi ti do due padri nostri tre alle marie e quattro pacche nel sedere non so non mi ricordo io facevo quelle cose quando avevo quando avevo dodici anni quindi non mi ricordo bene quindi allora ma andiamo allora alla luce di tutte le tante scritture che confermano il perdono per grazia di Dio e non per confessione di uomo cosa poteva voler dire il nostro signore quando fece con la dichiarazione ai suoi discepoli che sembra a prima vista sembra voler dire appunto quello ma come vi ho detto prima di tutto la prima cosa che dovete controllare ci sono delle altre degli altri versetti delle altre scritture che la confermano perché se ce n'è una sola non va anche se fosse chiara chiarissima anche se fosse nel contesto tutto quanto non vale perché è dalla bocca di due o tre testimoni che ogni verità sarà stabilita ok quindi andiamo a prima di tutto controlliamo il contesto leggendo un paio di versetti prima un paio di versetti dopo Giovanni 20 dal 19 al 22 ora la sera di quello stesso giorno il primo della settimana mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli stasera la domenica è il primo giorno della settimana per cui era domenica la sera di quello stesso giorno il primo della settimana mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro sciogli pace a voi e detto questo mostrò loro le sue mani e ricordatevi che la parola ebraica Yad che vuol dire mano è la parte finale del braccio non è solo la mano è la parte finale del braccio perché Gesù è stato inchiodato la croce nel polso non è la mano ok mostrò le sue mani e il costato i discepoli dunque vedendo il Signore si rallegrarono spero poi Gesù disse di nuovo a loro sciavolta pace a voi come il Padre ha mandato me così io mando voi e detto questo soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo e qui viene la famosa frase a chi perdonerete e i peccati saranno perdonati a chi li riterrete saranno ripunuti troviamo una scrittura molto interessante a questo riguardo in Ebrei 10 dal 14 al 18 con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo aggiungendo e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose di questi peccati non c'è più offerta per il peccato cos'è cos'è l'offerta del sacramento della confessione è la pendienza devi fare qualcosa giusto? e la Bibbia dice dove c'è il perdono che abbiamo appena visto con un'unica offerta infatti e le ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo aggiungendo non mi ricordano più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato ok allora uno prima l'offerta per il peccato è stata unica quindi non bisogna andare a chiedere scusa sia direttamente a Dio o attraverso la mediazione di un sacerdote ogni volta che si pensa di aver peccato l'offerta per il peccato è stata una volta per sempre basta finito non è che ogni volta che pecchi devi andare a chiedere il perdono perché se quello fosse il caso Gesù dovrebbe scendere dal trono andare sulla croce e versare il suo sangue un'altra volta e dire ok papà perdonalo perché ho versato il sangue perché senza il versamento di sangue non c'è il perdono del peccato ragazzi non mi sembra difficile se non versi il sangue non c'è il perdono del peccato quindi se tu non sei stato perdonato una volta per sempre una sola volta per sempre dal sangue versato da Gesù Cristo sulla croce due mili anni fa ogni volta che pecchi e chiedi perdono Gesù deve versare un'altra volta e questo no no non credo due secondo il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati tutte coniugazioni che parlano di fatto compiuto concluso fatto compiuto finito calà tetelle stai non c'è più niente da aggiungere non c'è più niente da modificare è stato fatto ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati terzo è proprio lo spirito santo lo stesso spirito che Gesù ha soffiato sui suoi discepoli che fa la dichiarazione non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità quindi stiamo parlando dello spirito di Dio che fa una dichiarazione e dice non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ogni volta come sentire ogni volta che vai dal sacerdote a confessarti o che vai da Dio a confessarti nel senso che 1 Giovanni 1 9 che voi sapete io la chiamo la saponetta del cristiano perché ogni tanto lo bisogna darsi una lavatina allora 1 Giovanni 1 9 peccato perdonami pagianate no non c'entra niente 1 Giovanni 1 9 non è scritta ai cristiani non è scritta ai credenti comunque non è quindi ogni volta che tu o vai dal sacerdote a fare la confessione o vai da Dio a chiedergli di perdonarti tu stai dicendo Dio sei bugiato perché io come come io no non dico quello eh sì perché lui ti dice non mi ricorderò più dei tuoi peccati e delle tue iniquità e tu gli dici ho peccato e lui dice io non me lo ricordo e tu gli dici sì ma io ho peccato ma ti ho detto che non me lo ricordo e tu gli dici sei bugiato perché te lo ricordo ecco perché devo chiederti perdono vedete che tristezza che è il religionismo no quarto la Bibbia la sacra scrittura la parola scritta di Dio non gli uomini non la denominazione ecclesiastica non la tradizione romana né le dottrine create ad hoc da un collegio di uomini vestiti con gonne rosse e pizzi bianchi no la Bibbia dice dove c'è perdono in queste cose non c'è più offerta per il peccato la parola originale per offerta è prosfora che significa sacrificio oblazione oblo offerta di penitenza ragazzi non ho nientato da aggiungere dove c'è il perdono in queste cose non c'è più penitenza per il peccato e noi andiamo nel gabbiotto e diciamo ho fatto questa e lui dice tre ave marie quattro padre nostro diciotto credo e dipende da dove fa ma allora Mario cosa voleva dire il signore vediamo un altro caso dove si mette in questione il potere dell'uomo di perdonare i peccati ok proprio come sto facendo io adesso però da un punto di vista diverso Matteo 9 dal 2 al 7 ed ecco gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto e Gesù è stato a sentire bene Gesù vista la loro fede disse al paralitico figliolo fatti animo i tuoi peccati ti sono perdonati perché mai costui parla in questo modo e gli bestemmia chi può perdonare i peccati se non Dio solo ma Gesù conosciuti i loro pensieri disse perché pensate a cose malvagie nei vostri cuori infatti cos'è più facile dire i quei peccati ti sono perdonati oppure alzati e cammina ora finché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati alzati alzati disse al paralitico prendi il tuo letto e vattene a casa tua ed egli alzati se ne andò a casa ok adesso nota bene la frase e Gesù vista la loro fede disse al paralitico i tuoi peccati sono perdonati e come la mettiamo? come la mettiamo? Gesù vede la loro fede e perdono al paralitico non ho capito la fede dei quattro amici produsse il perdono dei peccati del paralitico ma il perdono venne da Dio l'unico che può produrlo la sola persona che può perdonare un peccato è l'individuo contro il quale quel peccato è stato commesso non posso io perdonare un peccato che è stato commesso contro di te non posso io tu offendi il mio zio e io vengo da te e ti dico guarda ti perdono e mio zio dice ma chi sei? sono io che devo perdonare il peccato è contro il mie quindi quello contro il quale è stato commesso il peccato deve perdonare soltanto Dio può perdonarlo ma è la fede dell'uomo che porta il peccatore paralitico ai piedi di Cristo ma il sangue è la fede dell'uomo che porta il peccatore ai piedi di Cristo ma il sangue del figlio dell'uomo che produce il perdono il termine figlio dell'uomo è quasi dovunque intercambiabile con figlio di Dio e con Gesù Cristo vedendo la loro fede ha detto al paralitico i tuoi peccati sono perdonati loro l'hanno portato ai piedi dell'unica persona che poteva perdonare adesso annunciando la buona novella della inclusione dei peccatori nella crocifissione morte e risurrezione del figlio dell'uomo portiamo in fede il peccatore ai piedi di Cristo al resto ci pensa lui vi ricordate cosa dice il Signore appena prima di soffiare sui suoi discepoli lo Spirito Santo disse pace a voi come il Padre ha mandato me così io mando voi ecco il mandato del cristiano discepoli miei portate più peccatori che potete ai miei piedi così che io li possa perdonare è dichiarando al mondo che i loro peccati sono stati perdonati che svolgo appieno il mio ministero e soddisfo la mia chiamata avete notato che nessuno aveva fatto cenno a Gesù dei peccati del paralegno Gesù non ha risposto ad una richiesta nessuno gli ha detto perdona i peccati del paralegno no niente Gesù ha affermato un dato di fatto i tuoi peccati ti sono perdonati amore mio tu che stai guardando adesso a te che è stato detto che stai peccando perché fumi o perché c'hai tatuaggi o perché vai in discoteca sono tutte cose sceme che non dovresti fare ma comunque lasciamo perdere a te che è stato detto che Dio adesso ha girato la faccia perché tu hai sbagliato o sei andato a letto con la ragazza o hai fatto freddo stavi a sentire i tuoi peccati sono perdonati perché non sei tu che te lo devi meritare è Cristo che ha versato il suo sangue per perdonare i peccati dell'umanità i tuoi peccati non vengono perdonati perché tu chiedi perdone i tuoi peccati vengono perdonati perché Cristo ha versato il suo sangue duemila anni fa al Calvario su una croce divina amén e questo è quello che dovremmo dire invece noi cosa diciamo? ti andiamo a dire alla gente che sarà meglio che smettano di peccare perché se no vanno all'inferno no sarà meglio che smettano di peccare perché il peccato ha delle conseguenze mortali ma se tu sei un cristiano la tua relazione con Dio è intoccabile per sempre eternamente eternamente salva eternamente salda nella mano di Dio Gesù ha detto nessuno potrà togliere le mie pecore dalla mia mano niente Paolo ha detto niente potrà separarci dalla voce di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore salda sicura assicurata senza senza la minima discussione se sei un credente se sei un figlio di Dio i tuoi peccati sono stati perdonati dall'inizio alla fine primo passato presente futuro non c'è un peccato ho finito proprio oggi il capitolo sul suicidio soprattutto i cattolici che dicono il suicidio è un peccato mortale no no il suicidio è un peccato e se tu hai chiesto al sangue di Cristo di lavarti dai peccati puntino 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 trai le tue conseguenze comunque comprate il libro che c'è scritto qui ok andiamo avanti questo è quanto c'è richiesto da Giovanni 20-23 2 Correnzi 5 19-20 sta a sentire questo è quanto c'è richiesto questo è questo che dobbiamo andare a dire al mondo Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della riconciliazione noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di Cristo siate riconciliati con Dio Dio ha riconciliato l'umanità a se stesso adesso implora l'umanità di riconciliarsi a Dio perché ci vuole come si dice in inglese it takes two to tango ci vogliono due persone per ballare il tango una non so ma un po' quindi ci vuole la grazia e ci vuole la fede ci vuole la croce e ci vuole il cuore e la bocca ci vuole lo spirito di Dio e ci vuole il cuore dell'uomo ci vuole l'offerta di Dio e ci vuole la richiesta dell'uomo o l'accettazione dell'uomo la grazia e la fede siete salvati per grazia attraverso la fede ma tutto quello di cui hai bisogno è stato fatto da Gesù Cristo sulla croce una volta per sempre adesso se lo accetti sei stato santificato sei stato reso perfetto una volta per sempre con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati punto e basta e questo è quello che dobbiamo andare a dire al mondo ecco il motivo per il quale l'apostolo Paolo dichiara in Colossesi 1 24-29 la chiesa di cui sono stato fatto ministro secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi per presentare compiutamente la parola di Dio il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni ma che ora è stato manifestato ai suoi santi ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili che è Cristo in voi speranza di gloria che noi annunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù e per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza ecco quello che devo fare io devo presentare a Cristo il pecatore e poi a perdonarlo ci cresce a lui ed ecco perché se lo faccio i suoi peccati sono perdonati se non lo faccio i suoi peccati non lo ritiro vedi com'è facile quando leggiamo il contesto è come se Paolo dicessi l'incarico che Dio mi ha affidato e che ha affidato a tutti i suoi discepoli è quello di annunziare ammonire ammaestrare ogni uomo per poterlo presentare a Cristo in me la sua speranza di gloria la forza dello Spirito Santo che opera in me con potenza farà sì di presentare a Dio ogni uomo perfetto in Cristo Gesù poi ragazzi io quando vado in giro qui ci sono persone che mi digono soprattutto quando non ci sono tanta gente in chiesa e no ma quando due o tre sono riuniti lo Spirito è presente no amore mio io non ho bisogno di due o tre lo Spirito è presente basta che ci sia io lo Spirito è presente non ho bisogno di scritture del Vecchio Testamento che dicano che se due o tre si riuniscono no 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 dove vado io c'è lo Spirito Santo c'è lo Spirito di Dio ecco perché quando Gesù ha detto ha soffiato come Dio ha mandato a me adesso io mando a voi andate a dire a dire alla gente che Dio li ha perdonati portateli ai piedi di Dio che Dio li possa accettare e perdonare realizzare quel perdono che è già stato fatto sulla roccia quindi la menzogna è che un sacerdote può perdonare i tuoi peccati la verità è che solo Dio lo può fare e lo ha già fatto quando Gesù ha versato il suo sangue sulla roccia adesso tocca a me dire a più persone possibile Signore i tuoi peccati ti sono stati perdonati alleluia guarda guardami 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 Pasquale Monica Carletto Pino Pinuccia Giuseppina tutti voi guardate i tuoi peccati ti sono stati perdonati una volta per sempre se sei un umano cattolico che mi stai mi stai guardando che Dio ti benedica voglio voglio aggiungere domani probabilmente aggiungerò la conclusione al mio libro dove voglio assicurarmi che la gente si renda conto che ci sono solo due denominazioni al mondo i cristiani e non cristiani non ci sono non ci sono ci sono pecore e ci sono capre non ci sono pecre e non ci sono capre non ci sono ibridi o sei uno o sei l'altro e quindi anche i cattolici fra di loro ci sono milioni 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 di cristiani poi ci sono poi ci sono quelli purtroppo che sono impegolati nelle tradizioni nelle superstizioni nelle mediozie dei santi dei non santi delle madonne delle madonne delle sacramenti dell'incenso tutte quelle cose strane ma il cuore è quello che conta ed è quello che Dio conosce se il cuore è per Dio sta a sentire anche se tu vai in giro con le mani giunte ti fai il segno della croce e fai tutte le cose strane se il tuo cuore ha aperto la porta a Cristo Cristo in te i tuoi peccati sono perdonati Cristo in te è la speranza della gloria del mondo vai e vai a dire al mondo che lo spirito dentro di te annuncia i tuoi peccati che ti sono perdonati amè abba papà grazie 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 in questo momento ti prego se 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 tu non hai mai sentito un messaggio dal genere e e ti senti come se un peso è stato tolto da le tue spalle ti chiedo chiudi un attimo gli occhi e di questo con me di Signore Gesù accetto la tua offerta di perdono in questo momento apro la porta del mio cuore entra fammi una nuova triatura fammi rinascere rigenera il mio spirito così che tutti i miei peccati possano essere perdonati così che io possa ricevere la vita eterna che non finisce mai non finirà mai la tua vita che io possa ricevere il perdono totale eterno e tirare uno spirito di soglievo perché quella salvezza che mi hai dato non la perderò mai ragazzi che Dio vi benedica probabilmente Walter vuole che vuole fare qualcosa in settimana ve lo facciamo sapere probabilmente mercoledì ma vediamo altrimenti ci sentiamo domenica prossima un abbraccio un bacione ciao bene domenica prossima domenica prossima domenica prossima domenica prossima